La Battipagliesi ha comunicato di aver acquistato dalla casertana il calciatore Mario Squillante. Nato a Sarno il 12 luglio del 2001, Squillante è un esterno di centrocampo. Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura, dichiarato al momento della firma, e spero di poter essere utile alla causa bianconera. Sono arrivato in una società molto blasonata e spero di fare bene.